E' vista la prima improvvisazione di questa sera che ha per titolo la buona azione non richiesta numero dei giocatori illimitati, metteria libera, una da cinque minuti in una vista che ha per titolo la buona azione quotidiana di sbagliare la fantasia dei nostri giocatori, durata cinque minuti Allora il telefono lo mettiamo dentro, la basur e ce la mettiamo dentro e anche il computer ce lo mettiamo dentro Ho deciso, voglio donare tutto quello che abbiamo alle poste italiane Ma non le poste italiane abbiamo un sacco di cose da pagare, no? Lo sono suggestivi, sono così gentili che si meritano tutte le nostre cose Sì le poste italiane le poste, ma scusa, ma alcun tue pagno pensione, scusa, scusa Ritorna a parlarvi Tutte le nostre pensione dell'amico non è fatto, bisogna fare le medicine Come dire? Buono Ma se noi diamo tutto la loro, vuoi che loro non diamo nulla a noi? Sì! Sì! Però vedi che non riusciamo più a pagare i nostri scatti di lavoro? Io sono un caldo Se noi diamo tutte le poste, compreso la vedamento Ci trasmettiamo le poste, no? Sì! Sì! Ma se è il caldo che cosa fa la stella? Guarda! Oggi io uso la penne rossa Ho fatto un chiesto dall'automizzazione ma metto che così Però è via, non la puoi usare tu La metto qua e che rimanga lì, eh! Ci resta un'altra stanza proprio brutta I nostri italiani stanno a fare un'edito Vieni Adelaide, vieni, vieni Guarda che culo! Non ce n'è anche la coda oggi Ehm! Si è giocato forte in là Ma scherzo! Chiuso? No! Chiuso! No! No! Senta! Ci ha messo sei ore ad avutarla da casa Confe! 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 Guarda che stiamo qui dal prove! Dica! Cava città! Eh! Adelaide, glielo devi dire prima Hai la puttacia Dai! Andiamo dalla signora che sembra più gentile Signora, senta! Scusi, vuoi allontanarsi che sennò mi offusca il vetro Sai che quasi qua... Soffri! Mi fette! Amore! Vieni! Per fortuna che c'è il vetro Vieni! 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 Quali c'hanno raccomandate? Invio pacchi? No, lo so piano No, lo so piano No, lo so piano No, lo so 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 Io so Avete preso un numerino? Ma... Eh! C'è un numero della gente? Ma ieri non erano volte così ostili Mi passa che prendi un numerino e non è che ci voglia... Sì 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 Dovevo venire qua, lì! Sì Sì No, quello del campo... No! Avete bisogno? Vorremmo... Praticamente, siccome siamo molto contenti del vostro servizio parte oggi Vorremmo donarvi tutte le nostre... i nostri peli Eh, con 450 euro a prezzo stuola! Infatti ho portato qui la valigia, ho dentro tutti i miei averi E... tutto quello che c'è all'interno di questa valigia Il posto che ho in tasca, chiamiamo gli Adelaide, vorremmo fosse vostro Non lo so ne ha quali compilare Vado a vedere perché non me lo ricordo, il posto non si ricorda, ma mi serve niente di nessuno Adesso vediamo quale modo lo bisogna compilare Guarda, qua c'è il tempo, bellissimo onore, a piatto raticante, eh? Adelaide, adelaide, dopo loro saranno disponibili con noi Dopo questa donazione loro ci permetteranno di entrare nel fantastico modo delle poste italiane, vero? Dovremmo chiamare... Chi è? È il cazzo della valigia, Adelaide! Dovremmo chiamare il direttore, possiamo ovviamente Scraclound! 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 Oh! ura strani Non ci possono portare animali nell'ufficio Quel gatto qua l'hai già baggiato sul mucolo, vero? Ma mi sta bagnando il vetro, il beccicassi. Allora, lo fa questo paolo! Guarda, guarda, quanto sei! È solo il direttore! Il direttore te l'ho chiamata io. Fisica! Ti pagherai del tuo cucino, vero? Se vogliono fare... ...i... A strider! Come on! Sei come in favorita! Come on!